Allora, il libro tratta di un argomento estremamente attuale, le cronache di questi giorni ci restituiscono una realtà veramente impressionante. Sì, è un libro che ho sentito di dover scrivere come donna, come madre e anche come insegnante. È un romanzo, so che sono stati scritti tanti altri libri su questo genere, su questo tema, ma questo è un romanzo, non è un libro autobiografico e quindi come tale è finzione. Poi nella finzione la realtà viene manipolata, amplificata e restituita sotto forma di riflessione. È un libro che parte appunto da una riflessione. Io mi sono chiesta com'è possibile che esistano amori così malati, inquinati, da portare a far desiderare non solo l'agnentamento psicologico ma spesso anche fisico della persona che si dice di amare. A chi si rivolge con questo libro? Qual è il messaggio che lei vuole mandare e a chi soprattutto lo vuole mandare? Io lo vorrei mandare a tutti, sia uomini che donne, non faccio distinzione di genere appunto perché anelo che non ci sia una distinzione di genere. Sono molto contenta così come sono contenta di aver pubblicato con l'Asino d'Oro che è un editore importante. Il libro sarà presentato sabato 10 marzo al Foyer del Teatro della Fortuna e seguiranno altre presentazioni, oltre quelle che ho già detto di aver fatto, Senigallia ma anche Roma, Firenze e forse Milano. Grazie. Grazie. Grazie.